Sono Pietro Russo, interior e product designer, sono qui nel mio laboratorio per parlarvi della nuova collezione per casa Milano. Come potete notare questo luogo vige il caos e proprio dal caos che parte la mia ricerca, perché sono tendenzialmente una persona caotica. Questa partenza dal caos deve arrivare comunque a una sintesi che per me è l'essenziale. Infatti nuovi prodotti per casa Milano, ho lavorato su forme essenziali, semplici, accostate. Una domanda che mi faccio sempre è chiedermi che cos'è che determina l'eleganza e anche la differenza tra la moda o l'eleganza e la tendenza. Quindi l'effimero della seconda è la vita senza tempo di un oggetto elegante. Questo credo che il segreto sia proprio nella essenzialità, nella sostanza, cioè in quello che è un oggetto che si possa cogliere al primo sguardo. Perché siamo unici, ogni individuo è unico, la natura non ripete e coltivare questa personalità ci permette di tirare fuori oggetti unici. È tutto qui.